67. Questo è il motivo. Ma voi maestri che noi chiamiamo immateriali, chi siete? Commento Noi siamo stati uomini e adesso certamente possiamo essere più avanti di voi sulla strada della comprensione delle vite, ma non siamo l'assoluto. Possiamo avere meno limitazioni di quelle che avete voi, le nostre cognizioni possono essere più ampie di quelle che voi riuscite ad intuire, ma è illusorio che voi facciate di noi degli dèi. Noi siamo per voi dei fratelli maggiori che per la legge dell'amore cercano di suggerirvi quelle che credono siano le loro più giuste comprensioni al fine di aiutarvi ad arrivare almeno a quelli che sono i loro raggiungimenti. Questo è il motivo per cui ci manifestiamo attraverso gli strumenti. Grazie. 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 Grazie.